È una popolazione di 1 miliardo e 300 mila abitanti, quindi è molto numerosa, la densità è molto alta, gli spostamenti sono elevati e la vaccinazione è solo al 10% e quindi tutti questi fattori hanno contribuito alla replicazione del virus. Il virus è più stireplica e più varia, più crea nuove varianti. Ci dobbiamo preoccupare nel modo giusto senza farci prendere dal panico, ma certamente qui siamo di fronte molto probabilmente ad una ricombinazione dei virus, perché se andiamo a vedere come è costruita questa variante, un pezzo somiglia molto alla sudafricana e alla brasiliana è un altro pezzo alla californiana, quindi ci sono molto probabilmente ricombinati e questo può avvenire in qualsiasi paese. Cosa possiamo fare noi? Noi dobbiamo stare molto attenti agli aeroporti, perché ci sono anche delle triangolazioni, possono arrivare da tutte le parti del mondo, anche attraverso Mosca ad esempio, attraverso scali intermediari e che quindi questo permetterebbe di sfuggire, potrebbero sfuggire questi soggetti ad alto rischio provenienti dall'India, dalla Cina e dai paesi dove la pandemia è ancora molto elevata e questo potrebbe determinare per noi una catastrofe. Quindi stiamo molto attenti agli aeroporti, facciamo molti controlli negli aeroporti, tamponi molecolari sempre. Questo è il primo punto sul quale dobbiamo veramente focalizzare. Sento Professor Broccolo, non posso eludere la domanda, anche se le sembrerà di una banalità sconcertante, però chi ci sta ascoltando ed è magari stato vaccinato già, si starà chiedendo, ma il vaccino che mi avete fatto, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, quello che è, funziona contro questa variante indiana o no? O devo ricominciare tutto da capo tra un po'? Allora, chiariamo. Funziona, direi, con molta probabilità, certo la certezza, non la posso dire con certezza, ma con una probabilità molto alta contro la malattia, contro il Covid, contro un po' di grave. Quindi è protetto dalla malattia grave. Non sono certo che sia protetto dall'infezione, ma questo l'abbiamo visto anche con tutte le altre varianti, anche la variante inglese, è uscito uno studio sull'Anset che mostra che la vaccinazione, sia di AstraZeneca o di Pfizer, protegge dall'infezione non totalmente, cioè al 75%, 80% circa. Quindi c'è una quota che si infetta lo stesso e che trasmette anche il virus. Però l'importante è capire, dare un messaggio che protegge dalla malattia, protegge sempre dalla malattia, nel 95-97% dei casi, dall'infezione protegge meno. Però, quindi, stare tranquilli se si è vaccinati e l'infezione e la trasmissione dobbiamo considerare… Per essere ancora più chiari, magari chi è vaccinato potrebbe contrarre la variante indiana piuttosto che sudafricana, ma i sintomi non sarebbero così gravi, è corretto dire così? Certamente, certamente. Ad oggi possiamo dire che è così.